Il Comitato Orgoglio Amaranto scopre le carte e lo fa con la massima trasparenza di sempre insieme al Museo Amaranto. Il momento per le sorti dell'Arezzo è delicatissimo, un appello accurato ai giocatori affinché non scioperino, altrimenti sarebbe la fine. Un appello alla politica e agli imprenditori, il momento di aiutare l'Arezzo è adesso. La gara con la Gianna Erminio è a rischio e non solo per lo sciopero dei calciatori. Ci sono dei fornitori che sono un attimino in sofferenza e tra questi fornitori ci sono coloro che offrono servizio di steward allo stadio, per cui chiedono un incontro, chiedono di essere tranquillizzati sotto questo aspetto e non solo questo, c'è anche un problema legato al generatore e quindi ci sono cose che sono indispensabili perché l'evento sportivo possa verificarsi. Per cui queste cose vanno sistemate e in questo momento è un'emergenza, è un'emergenza che va assolutamente cercata di mettere a riparo. È stato informato Matteoni di questa emergenza e lui si è chiesto disponibile? No, certo, ci parleremo, questo sì. Poi mi hanno detto che sono arrivati ora il direttore Zavaglia, se non sbaglio, sono arrivati e glielo rinnoveremo. Stamattina eravamo al GOS sia io che Lisa Panichi in rappresentanza della società, per cui è doveroso che siano informati che queste sono problematiche da risolvere in maniera tempestiva. E ritrovarsi dopo tutti questi anni nella solita situazione è una cosa che fa male, quindi era proprio l'appello che facevo io ai giocatori, non siamo con loro, lo siamo stati e lo saremo sempre. Ora abbiano rispetto per questa partita, per quelli che sono i dipendenti dell'Unione Sportiva Rezzo, che non hanno mollato di un millimetro. Dopodiché a gennaio è giusto che ognuno di loro possa decidere della propria vita, ognuno ha una famiglia e nessuno li attaccherà se decideranno di non continuare ad Arezzo, questo mai. Però ecco sabato onorino chi vuole per l'ultima volta la maglia che hanno indossato chi anche per tante volte, per rispetto anche per tutti questi ragazzi che li hanno seguiti in tutte le parti d'Italia dove hanno giocato, non sono mai stati lasciati soli, allora non ci lasciano soli un'ultima volta. L'appello soprattutto alla politica, perché fino ad ora hanno fatto solo foto e passerelle e adesso devono dare una mano concreta alla società, adesso devono veramente fare i fatti. Fino ad adesso troppe parole e pochi fatti. Io ho detto come fare, se vogliono possono andare nel sito di Orgoglio Amaranto, associarsi al comitato, fare una donazione che verrà girata immediatamente nei conti dell'Unione Sportiva Arezzo. Orgoglio Amaranto ha anche reso pubblici i dati del bilancio societario. Al 30 giugno il disavanzo superava 1 milione e 800 mila euro. Con l'incontro tra Matteo e gli imprenditori, da speranze che insieme si possa trovare una strada? La speranze, che ti devo dire, non è che c'era, pullulava di imprenditori quella mattina, per dirne una. Qualcuno ha già dato la sua disponibilità, diciamo anzi uno ha dato la sua disponibilità a fare la sua parte e per il resto è stato un po' vediamo. Per cui va rinnovato ora l'appello, cioè chi veramente ha passione lo faccia, chi non ha passione eviti di salire quelle scale, è meglio.